Usa questa chiave per sbloccare la tua audacia. Trova il corridoio segreto per saperne di più. Non posso, devo finire di allestire il ballo dei demoni. Ho gli allenamenti della squadra di nuoto. Ho le prove del club di teatro. E ho una partita di casketball. Ma quando mai capita una cosa del genere? Dai! Guarda qua, siamo cool con un look e spacca. Questa chiave aprirà i nostri guardaroba. Infestiamo tutto, sarà un grande spasso. Questa chiave aprirà ogni porta. Ora tocca a noi, abbinando come vuoi. Scambiando più che mai, stile da paura. Tocca a te, tocca a me, mostrerai. Siamo qui, tutto perfetto dai. Da urlo siamo, tu lo sai. Un diritto che ha Draculaura e wow. Che forza Claudine se si veste così. Spacca troppo il look di Frankie. Go Frankie! Sia di tacchi super chic. Ma che fashion che è così. Non c'è scampo ma lo sai. A fine scambia come mai. Segui me, poi vedrai. Sarà super fashion. Oro che brillerà. Oro che ci abbaglia. La tendenza la fai tu, alla moda sempre più. Fiesta! Questa chiave aprirà ogni porta. Ora tocca a noi, abbinando come vuoi. Scambiando più che mai. Più che mai. Stile da paura. Quel diritto che ha Draculaura e wow. Che forza Claudine se si veste così. Spacca troppo il look di Frankie. Go Frankie! Hey boy! Sia di tacchi super chic. Ma che fashion che è così. Non c'è scampo ma lo sai. A fine scambia come mai. Guardate qui. Ho trovato un'altra chiave. Scommetto che apre l'ultima porta dell'armadietto. Io questo lo adoro. La passerella. Già lo spregheremo. La passerella. La passerella. Si padre! Che per te ha Draculaura e wow. Che forza Claudine se si veste così. Spacca troppo il look di Frankie. Go Frankie! Le ha i tacchi super chic. Ma che fashion che è così. Non c'è scampo ma lo sai. A fine scambia come mai.